Prosegue spedita nella nostra regione la campagna di somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid, un trend che risulta in crescita del 38% rispetto al totale registrato nella settimana precedente. Ad oggi la terza dose può essere somministrata a tutte le persone sopra i 60 anni e da pochi giorni anche gli over 40 che hanno fatto la seconda dose da almeno 5 mesi, ma ovviamente anche gli ospiti e operatori delle residenze sanitarie per anziani, al personale sanitario e agli immunodepressi. Le ASL abruzzesi per rispondere alle richieste e accelerare il più possibile le somministrazioni si stanno anche organizzando con centri SPOC sul territorio. Abbiamo superato le 100.000 dosi somministrate che mi sembra un ottimo risultato. I cittadini abruzzesi vogliono fare la terza dose quindi le ASL si sono organizzate seppure c'era stata una fase in cui c'era stato chiesto di ridurre un po' gli hub vaccinali ma adesso le ASL si sono nuovamente riorganizzate soprattutto con hub, con centri vaccinali SPOC, cioè con piccoli centri vaccinali un po' distribuiti sul territorio, alcune ASL sono tornate nei comuni e quindi hanno ripetuto un po' quella che è stata l'esperienza della prima campagna vaccinale ma comunque alla fine i risultati arrivano. Questo fatto che si è anticipato anche di un mese ha fatto sì che molte persone vengono nei nostri centri vaccinali per la terza dose ma insomma io direi che stiamo andando bene. A livello regionale qual è la provincia che sta richiedendo più vaccini? Non c'è una provincia che sta richiedendo più vaccini rispetto ad un'altra, è chiaro che ci sono province più grandi come quella di Chieti che ovviamente fa numeri più importanti rispetto a quelli invece che hanno meno abitanti, meno popolazione però alla fine devo dire che dai report serali più o meno adesso tutti sono sopra mille vaccinazioni al giorno, insomma siamo tornati a 5.000-6.000 vaccini al giorno che erano quelli della prima parte della campagna vaccinale. Dal punto di vista dei centri SPOC che saranno aperti diversi? Allora i medici di famiglia si stanno organizzando e questo è positivo perché alla fine insomma la campagna vaccinale in questa seconda fase era soprattutto come dire concentrata sui medici di famiglia, sulle farmacie, quindi sì, diciamo soprattutto centri SPOC con i medici di famiglia, però ripeto alcuni altri, come altri Pescara, si è organizzata, ripetendo un'esperienza passata che è quella del coinvolgimento dei comuni dei sindaci e dei medici di quei territori, per cui devo dire che in questa fase l'apporto dei medici di famiglia si sta facendo sentire. Guardi, in questo momento si sta verificando che c'è anche un leggero incremento delle prime dosi, si fanno circa 300-400 prime dosi ogni giorno, quindi questo comunque è un dato positivo.